Grazie, allora datemi 30 secondi per ringraziare intanto le compagne e i compagni che stanno tenendo in piedi il Climate Camp perché state facendo un lavoro come sempre in mane e sinceramente rimane uno dei momenti forse più forti e più alti. La frattura, la permanenza e il metodo. Ora sono tre categorie, tre parole che in realtà negli ultimi tempi stiamo rincorrendo e declinando anche in termini diversi con Maura ma anche con Alice abbiamo scritto, lavorato ultimamente su parecchie questioni legate al decoloniale e al dibattito, all'idea della decolonialità e questi tre elementi in qualche modo ritornano. La frattura è stata abbondantemente rappresentata, raccontata e nei suoi effetti è anche una frattura politica, cioè quel momento in cui in qualche modo abbiamo iniziato a ricevere come retroazione la lettura dall'interno delle esperienze coloniali, la lettura politica, la rilettura della nostra storia e la critica anche alle grandi esperienze, marxismo compreso, che avevamo rappresentato e considerato totalmente strane all'idea del potere, alle modalità con cui si era affermato. E quella frattura fondamentalmente, sì è vero, in buona parte è rappresentata anche dai racconti legati al marxismo antiliano, alle rivoluzioni antiliane, alla presenza e all'idea di pratiche fortemente critiche nei confronti del modo in cui abbiamo immaginato la rivoluzione, della visione unica per cui tutto sommato se la storia del mondo era stata questa espansione del modello europeo anche la salvezza sarebbe arrivata dal modello della trasformazione, dall'idea di rivoluzione che avevamo prodotto dentro quel quadro. E la stessa frattura si è prodotta quando tutto questo tipo di critica si è infranta, e questo è proprio proprio dentro il nostro dibattito dell'ecologia politica, con la percezione del fatto che in realtà, avendo trasformato anche da un punto di vista biologico l'intero pianeta, l'imperialismo ecologico, in una grande Europa, l'intero pianeta in una grande macchina che serviva a riprodurre il sistema capitalista, in realtà il processo costante di sottrazione di capacità riproduttiva, anche sul piano culturale, a ciò che era estraneo, ha portato ad un limite tale per cui oggettivamente tutto ciò che può essere adesso deve essere qualcosa di completamente diverso. Questo l'aveva notato già Abdelmelech Sayyad parecchi anni fa, quando comprendeva di non poter essere dentro nulla, di non potersi sentire dentro l'identità precedente, di non potersi sentire nell'identità dei colonizzatori, di non poter cercare qualche altra alternativa di dover guardare avanti. La permanenza riguarda strettamente quella frattura, perché? Perché permane il modello coloniale su due livelli. Uno, il più bieco, il più pratico, quello che abbiamo visto in questi giorni. Pandemia e crisi climatica si distribuiscono in maniera totalmente ineguale. È un racconto normalizzante e rassicurante per noi, che è stato prodotto a dismisura all'interno della comunicazione mainstream dei paesi più ricchi, in cui a un certo punto è scomparsa la narrazione di tutto ciò che stava al di fuori. Indiscutibilmente ci sono aree del pianeta in cui l'arrivo della pandemia non ha rappresentato per nulla una novità, né in termini di mortalità, né in termini di problematiche sanitarie. Sarà così sempre di più per quello che già avviene all'interno della distribuzione degli effetti della crisi climatica. Questa distribuzione ineguale è una permanenza, non è tanto un lascito del modello coloniale. A questa permanenza si sovrappone un'altra. In qualche modo è anche quella di cui parlavi tu, ora, cioè nel senso della permanenza è quell'idea per cui tutto il mondo, ad un certo punto, nella fase estrema di sviluppo del capitalismo, è stato inglobato all'interno di quel modello. Il margine si estende, il sistema si trasforma, l'esclusione dal margine inizia a diventare qualcosa di stabile e il margine si inizia a produrre, riprodurre, riproporre anche in quelle che prima erano le aree forti. Una buona quota delle relazioni interne alle dinamiche dei conflitti ambientali e climatici è totalmente interna alla storia dell'esperienza coloniale. Quella storia per cui chi vive in un'area non ha diritto di esprimere nulla sull'ambiente, sulla propria salute, sulla gestione del territorio. E i tentativi di conflitto vengono sanati solo ed esclusivamente ricorrendo alle forme repressive. Questa è la storia di tutta l'esperienza coloniale planetaria. Noi la stiamo vivendo nell'ultimo quarantennio, diciamo. L'altro aspetto di permanenza che riguarda il margine dell'esclusione è ciò che dal mio punto di vista ha a che vedere molto a quel terzo punto, cioè il metodo. Provando a raccontare e riraccontarci come abbiamo fatto in questi ultimi mesi tra i seminari, nel FEMAT meeting che abbiamo fatto online, nelle trasmissioni di ecologia politica in radio, nei seminari delle rette di ecologia politica, in realtà ha continuato a tornare regolarmente il problema della situazione economica e del disastro delle condizioni di vita collegate all'acuirsi della crisi e delle prospettive future. Ha continuato a tornare con il numero finto, parecchio sottostimato, dei 18 milioni di abitanti di questo paese che ruotano, vivono sulla soglia di povertà e che crisi dopo crisi, emergenza dopo emergenza, cioè in questa rappresentazione che per me è del tutto falsata, dell'idea che appunto, come dicevamo anche ieri, le crisi non siano il sistema, che il sistema non funzioni, non si alimenti di questo, si troveranno sempre peggio. La linea dell'esclusione ha stabilito un passaggio, quel passaggio in cui questo mondo interamente colonizzato stabilisce che una quota sempre maggiore di popolazione dovrà stare fuori da quella linea. E ci starà stabilmente. Il miraggio dell'inclusione che ha tenuto in piedi il racconto sulla socialdemocrazia europea non esiste più e non può più essere riproposto. Ed è qualcosa di cui stiamo parlando già da un paio d'anni. Il metodo in relazione a questa idea che politicamente, proprio in maniera più squisitamente politica, stiamo continuando a tutti noi, a discutere, riguarda le possibilità di uscita, le possibilità di alternativa. Riguarda il fatto che decolonizzare non significa solo destrutturare quel soggetto di cui parlavi tu. Il maschio, bianco, occidentale, eterosessuale, cristiano, che è stato rappresentato come il riferimento della razionalità e a cui è stato attribuito diciamo la proprietà del pianeta. Significa anche ragionare sulle pratiche e su che cosa nell'esperienza e nelle esperienze plurali che provengono da tutto ciò che è successo al di fuori dell'Europa prima, al di là del margine dopo, può dirci e può raccontarci in questa situazione. Recupero Samira Min, che è scomparso un paio di anni fa, forse è vero che in Italia non ne abbiamo parlato praticamente mai, beh, la tesi che lui mette nel dibattito che negli anni Sessanta inizia a discutere proprio sulle crisi del capitalismo è che l'innovazione arriva sempre dal margine, soprattutto quella politica. L'idea che anche comunque nel dibattito marxista la trasformazione debba venire al centro delle aree di potere viene ribaltata che effettivamente in tutte le situazioni in cui si sono aperte fratture rivoluzionarie, grandi momenti di trasformazione, gran parte delle idee e soprattutto delle pratiche provenivano dal margine, diremmo oggi, diciamo, lui parlava della periferia, provenivano da tutte quelle aree in cui effettivamente l'esclusione aveva prodotto la necessità di ribaltare gli schemi, la necessità di ricostruire tutto e la necessità di opporsi in maniera radicale alla struttura e al funzionamento delle cose. Le pratiche ci sono, io non penso che possano essere tradotte in maniera letterale nel nostro contesto, però aprono una strada che è quella dentro cui già ci stiamo muovendo. L'esclusione dal margine significa materialmente una serie di cose pratiche, significa il discorso che in questi giorni abbiamo fatto sull'esclusione della salute e la necessità di trovare alternative che siano alternative comuni, collettive, quelle alternative che nelle esperienze latinoamericane sono state quelle dell'epidemiologia popolare, sociale, si declinano in tanti modi, mi sembrerebbe abbastanza assurdo fare qua una lista di casi e specificità. si declinano nelle economie popolari che sono state prodotte e ricostruite nelle situazioni marginali come base per la costruzione di una società non capitalista. In tutte quelle forme che sono state sperimentate negli anni in cui la crisi è stata vissuta in maniera devastante, come sempre, nelle aree più povere e in cui si è arrivati al ribaltamento tradizionale anche dei ruoli della conflittualità. Una quota consistente di questo dibattito è stata importata solo molti anni dopo, anche qui in Italia, in parte per la permanenza, in parte perché in effetti c'è bisogno anche di ridiscutere in questi stessi termini le trasformazioni delle soggettività e di includere all'interno dei nostri metodi queste esperienze. Da un lato rimane, secondo me, e rimane come innegabile dal punto di vista della conflittualità l'idea, e questo sì è tutto sviluppato all'interno del campo del pensiero europeo, quell'idea di cui io in qualche modo diciamo mi sento debitore a tutto il dibattito marxista, cioè quella per cui bisogna partire dall'individuazione delle contraddizioni interne del sistema. Solo agendo all'interno di quelle contraddizioni si riesce a scardinare l'efficacia, il funzionamento, il potere di azione e di controllo del sistema, per cui quella coloniale è un'altra delle contraddizioni che permane e che va scardinata. Va scardinata e può esserlo nei processi e nelle rappresentazioni culturali e non mi dilungo perché il modo in cui negli ultimi giorni specialmente vengono raccontati semplicemente gli eventi è l'espressione più pura di una permanenza coloniale e per cui è evidente che ci sono vite che valgono di più e vite che valgono di meno. Vite che sono più funzionali e che possono essere scartate in funzione sempre dei processi di valorizzazione ma dall'altro lato l'individuazione e l'azione all'interno delle contraddizioni non può funzionare se si rimane dentro lo stesso schema. Funziona se dentro quel tipo di contraddizione se dentro del tipo di conflitto riusciamo a portare anche la capacità di costruire nuove forme nuovi spazi e io ritengo che i prossimi anni anche in questo paese saranno anni in cui una buona quota di conflittualità avverrà per forza di cose all'interno proprio di questo schema cioè la permanenza di un modello diciamo che tende a tenere in piedi il margine quanto meno a nasconderlo o a ridurre i livelli di conflittualità e l'esigenza materiale di costruire spazi di totale autonomia dal sistema che agiscono all'interno delle contraddizioni ora è chiaro che messa così è diciamo abbastanza utopica come rappresentazione però è anche vero che noi siamo già in grado di pensare perché non sono io a farlo cioè ciò che leggo su cui mi confronto costantemente modelli alternativi quei modelli che ormai sono destinati a scomparire completamente dalla crisi di quell'attore che dentro la colonia era fondamentalmente il riferimento di tutto cioè lo stato-nazione e questo significa che solo quel tipo di spazio potrà compensare per esempio il problema della salute il problema dell'approvvigionamento alimentare il problema della trasformazione del lavoro il problema dell'uscita dai modelli produttivi non penso che tutto questo possa essere un percorso semplice o un percorso privo di esplosioni di grandi momenti di conflittualità però è esattamente ciò che il modello coloniale ci ha lasciato in eredità uscire da quel modello significa smantellarlo completamente e significa immaginare uno schema di funzionamento di una società totalmente differente una società che funzioni seguendo i principi che sono esattamente l'opposto del sistema in cui viviamo un percorso